Sono due militari del contingente italiano dispiegato in Libano, i primi graduati dell'esercito a sposarsi in teatro operativo. Oggi presso l'ambasciata d'Italia a Beirut, l'ambasciatore Nicoletta Bombardiere ha celebrato le nozze di due peacekeeper, il caporal maggiore capo Vincenzo De Rite e il caporal maggiore scelto Fiorella Tomasino, in servizio presso il 232esimo reggimento trasmissioni di Avellino e, attualmente, impegnati nella missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Sud del Libano, con la brigata Granatieri di Sardegna. L'uniforme di servizio e combattimento che avesse i militari impegnati in patria e all'estero è stato l'abito da sposo di Fiorella. Lo sposo portava il basco blu dei peacekeeper dell'ONU. Hanno assistito alla cerimonia il comandante del contingente, generale di brigata Diego Filippo Fulco, presente anche in veste di testimone e alcuni colleghi in rappresentanza degli oltre mille italiani del contingente. I parenti hanno assistito, in collegamento video dall'Italia, alla cerimonia che si è svolta con rito civile. Guanti, mascherine e distanze imposte dall'emergenza Covid-19, inconformità alle disposizioni vigenti, hanno contraddistinto diversi momenti della giornata. Vincenzo e Fiorella, con la loro decisione di sposarsi in missione e di proseguire il loro mandato, sono un esempio di dedizione al lavoro e al sacrificio, un esempio concreto di quello spirito di servizio che accomuna i militari. Sono state queste le parole del generale Fulco, comandante del contingente italiano.